Mi è tipo spuntata sta roba qua gigantesca, però io devo fare sto vlog prima di partire. Saluti ragazzi e benvenuti in questo brevissimo vlog. Lo vedrete sicuramente di lunedì e insomma lo faccio per un semplice motivo, anzi per due semplici motivi. Il primo che avrete sicuramente notato è che finalmente ho una facecam, perché quella di prima non era una facecam, era una betoniera. Avrete sicuramente notato la incredibile qualità che avevo nelle live e tutto. Insomma ho comprato questa facecam, l'ho presa proprio per la serie che sto portandosi alla Crazy Lock. Tra l'altro vedrete questo video lunedì, la Crazy Lock esce martedì, avrò comunque la facecam vecchia perché l'ho proprio presa, l'ho comprata, l'ho montata e sto registrando. E niente, questa è una news molto importante, avrò finalmente una qualità decente. E niente, spero che vi piaccia, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate appunto. Secondo punto, è perché sì, appunto, secondo punto è molto divertente. Il secondo motivo per cui faccio questo vlog è la frequenza dei video che ci saranno nella prossima settimana. Infatti, come magari qualcuno di voi saprà seguendomi sui social, tra l'altro, seguitemi sui social, io lo dico sempre. Insomma, questa settimana partirò, sarò in Francia, mentre voi vedrete questo video io sarò in Francia. E quindi ne usciranno di meno, uscirà questo vlog qua come video del lunedì. Domani uscirà un episodio della Crazy Lock, tra l'altro vi è piaciuta tantissimo, mi fa un grandissimo piacere perché la challenge ho invitato io. Tra l'altro, ragazzi, fatela un po' girare sta Crazy Lock, avvisate gli youtuber, se vi chiedono quale serie fare, ditegli la Crazy Lock, facciamolo un po' girare questa serie. E niente, poi mercoledì non usciranno video, mentre invece giovedì porterò un episodio di Siena e venerdì uscirà poche MMO. Quindi niente, solo per dirvi che magari sarò anche inattivo nei commenti, non risponderò perché insomma sono in Francia e me la voglio un po' godere. E niente, siccome io adesso devo andare, devo proprio partire, come direbbero i miei amici là sopra, oltre le Alpi. Noi ci becchiamo in un prossimo video, questa è l'ultima volta che mi vedrete in live perché dopo saranno tutti episodi pre-registrati. E niente, quando tornerò cercherò anche di fare una live sicuro perché è un po' che non ne faccio, magari le faccio sul canale di Luke, dipende. E quindi niente, noi ci becchiamo in un prossimo vlog che sarà tipo il fact time, quindi ciao a tutti! Grazie a tutti!